Il servizio di locata, il suo credito di primo è 45,36 euro, una compensa aggiornata al 216,124. Le ricordiamo che il 412 ti trova tutto, da oggi diventa il 1254, il suo servizio di informazioni del gruppo Telecom Italia. Ci arrivi subito al 1254 per avere informazioni che d'enco abbonati e molto altro ancora. Per informazioni costi, consulti il sito www.gip.it. Per passare al profilo Team Away from Home, o per cambiare lingua, prema 0, per l'offerta Team, prema 1, per l'offerta Team, prema 1, per l'offerta Team, Office Network Professional, 2, per conoscere i bonus principi, 3, per ricaricare il telefonino, per ricevere un SOS per ricarica, 4, per cambiare profilo, gestire le opzioni, per informazioni su quali sono.